Hai bisogno di crediti per realizzare la tua squadra dei sogni? Passa da IGVOLT e con il codice sconto GIANT avrai un incredibile sconto del 6% Sito affidabilissimo e con una velocità di consegna INCREDIBILE Link in descrizione Ciao a tutti ragazzi, sono Vicente e benvenuti qui sul mio canale Siamo tornati qui, sennò dopo un'eternità Nel ROTU di Vision One Non è un vero e proprio video del ROTU di Vision One Ma ragazzi, ma sono qui per mostrarvi ragazzi la mia incredibile ibrida Dopo i vari incredibili campioni che sono riuscito a trovare negli scorsi pack opening E sono qui ragazzi per mostrarvela Ma mi raccomando, superiamo i 2000 mi piace per il ritorno del ROTU di Vision One Se volete almeno un episodio alla settimana ragazzi Vi ricordo che sono in Division 1 Come potete vedere qui ho già disputato due partite per conto mio con questa nuova squadra E le ho vinte a trampe Ragazzi, una formazione incredibilmente forte Assolutamente migliorabile Quindi vi invito a scrivermi qui sotto nei commenti Come potrei migliorare ulteriormente questa squadra Ma ragazzi, partiamo subito Vi anticipo soltanto appunto che è una ibrida tra Serie A e Premier League Partiamo dal portiere ragazzi Pegovic Ogni anno si dimostra sempre un bug incredibile e di sicuro affidamento Terzino adesso ragazzi, l'amore mio Un giocatore che veramente amo sia sotto l'aspetto tecnico che come persona Alessandro Florenzi lì sulla fascia destra Affiancato da Giorgione Belnaso Chiellini Lato Premier League ragazzi A fare intesa con Begovic ci penserà David Luiz ragazzi Che per chi ha seguito la live di Foolish di sabato Saprà benissimo che Davidone Luiz è un bel bel dito in Ad affiancare David Luiz ragazzi c'è Marcolino Alonso Che non è da sottovalutare ragazzi E' un bel bug secondo me Ed è migliorabile perché ho intenzione di comprare la sua versione IF 83 ragazzi Che costa all'incirca 80.000 crediti Quindi devo un attimo recuperare un po' di crediti Per poi comprarmi il Marcos Alonso Come vedete ha una velocità e un fisico incredibilmente alto Centrocampista centrali ragazzi Non può mancare lui Raja nazionale Incredibile Fortissimo Magari ad avere la versione 86 Ma costa troppo ragazzi Nainggolan Affiancato da Pjanic One to watch non scambiabile Trovato nella settimana in cui si potevano trovare one to watch Nelle creazioni sfide Affiancato anche lui da N'Golo Kante one to watch non scambiabile Anche lui trovato in quei pacchetti Che ha aumentato 85 dopo gli upgrade della Premier League C.O.C. ragazzi Non può mancare lui Adesso arriverà il trio argentino Incredibile Paolino Di Bala C.O.C. 85 di overall Raga fortissimo Vale assolutamente il prezzo del biglietto Affiancato a lui C'è anche Maurito Icardi Anche lui salito di più uno Dopo gli upgrade Della Serie A Da 87 È arrivato ad 88 Ed è qualcosa di incredibile Ragazzi 91 di tiro Lui è non scambiabile Quindi Tanta roba Affiancato Dall'altro argentino Della Premier Sergio Aguero Ragazzi Fortissimo Questa è la squadra Incredibile che sono riuscito a crearmi Ma ovviamente non può mancare ragazzi Il Papu Gomet trovato nel pack opening Nell'ultima pack opening Che vi invito ad andare a guardare Vi lascio il link sotto in descrizione E il Papu mi ha anche messo mi piace Su Instagram Alla foto Della miniatura Di quel video Andate sul mio profilo Instagram Joe Giant Andate a vedere il like Del Papu Gomet In persona Sicuramente lo inseriamo Nel secondo tempo Questa è la squadra ragazzi Incredibile Fortissima Ci ho già fatto un paio di partite Ed è veramente inarrestabile Andiamoci a fare anche oggi Forse un paio di partite Nel rotto di Vision One Vediamo un po' Chi sarà lo sfortunato Che dovrà affrontare Questa incredibile squadra Ok Ecco qui il nostro primo avversario ragazzi Il suo nome è Sbornia Come vedete La squadra si chiama Sbornia Quindi potremmo essere avvantaggiati Sotto questo aspetto Perché sicuramente I suoi giocatori saranno in after Ma manco per il cazzo Ma che squadra c'ha sto qui Griezmann Suarez Ben Yedder Dico solo questo ragazzi Sarà complicato ragazzi La nostra squadra Non è da meno però Andiamoci a fare questa prima partita Quindi ci siamo Partiamo E vamos Ok Abbiamo recuperato subito palla Aghero Lancia Maurito Che Mamma mia Che fisico Incredibile Maurito Si accentra Palla per Di bala Subito ci proviamo ragazzi Al secondo minuto Prezione a Pjanic Palla dentro Per Icardi Stop e tiro Mauro Icardi La mette lui Fortissimo 91 di tiro E si vede tutto ragazzi Buca Incredibilmente De Gea Riguardiamo Grande filtrantino Di Pjanic Icardi La mette lì nel 7 Dove non batte il sole 1-0 FC Giant La vicina al compagno La batte Attenzione Sul primo palo Pjanic riesce ad evitare l'angolo La palla rimane in Raja Col suo fisico Prova a lanciare Icardi Icardi Uno contro uno Con Marcelo Ancora Icardi Aspetta l'inserimento Di Miralem Pjanic Che perde palla Poi la recupera E' ancora a terra Pjanic Magari ti alzi Pjanic Giustiamola bene Nainggolan Il pertugio Per Florenzi Dentro Per Nainggolan Che azione incredibile Che azione incredibile Signori Pressa ancora Nainggolan Ancora De Gea La fessaccia De Gea Occhio Benjeder Modric Cross in mezzo Dai Perché non c'è andato nessuno Ho coperto bene La difesa si è aperta Incredibilmente Gol di Bayeder Pareggio del nostro avversario Pareggio di Sbornia Icardi Ancora Centralmente Di Bala Palla dentro Per Pjanic La palla è lì Aghero 2 a 1 FC Giant La firma del Kun Incredibile Un gol facile facile Di Bala Centralmente Nainggolan Aghero No E Pjanic Si è allargato benissimo Ale Flo Florenzi Florenzi Centralmente Icardi 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 Cazzo Non è finita Florenzi Ci prova dalla distanza Palla deviata Calcio d'angolo Si recuperiamo bene Recuperiamo bene Kanté Kanté Lancia Lancia Aghero 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 Ancora palla di ritorno Per Kanté Mamma mia che azione Bellissimo scambio 2 a 2 Potevo gestire Potevo gestirmela meglio Però sono stato io pirla Lo ammetto Lo ammetto Sono stato io pirla Cerchiamo di provarci A questo punto proviamoci Proviamoci a questo punto Proviamoci a questo punto Allarga Marco Salonso Centralmente Aghero Aghero La palla è lì Mamma mia Che cosa sbaglia Pjanic Finisce qui Cioè prendiamo gol Alla fine Come al solito Pareggiamo 2 a 2 Il mio avversario Ha fatto 4 tiri in porta 2 gol Io non lo so Vabbè Poi commentate voi Ragazzi Ho fatto 10 tiri in porta Vabbè Sappiamo come FIFA Però è colpa mia Ok è colpa mia Dovevo gestirmela meglio Dovevo essere un po' più cinico Lì davanti Andiamoci a fare la seconda partita Ragazzi Vediamo di vincerla Questa Eccolo qui ragazzi Brindisi FC Quindi è pugliese anche lui Dovrebbe essere Si chiama Brindisi FC Non penso che un milanese Si chiami la sua squadra Brindisi FC Minchia Che bella serie A Non è dell'Inter Questo sono sicuro Abbastanza sicuro Ragazzi Seconda e ultima partita Di questo episodio Del rotto di visual one Mi raccomando Lasciate un mi piace Per questa squadra incredibile Ci siamo Partiamo e vamos E andiamo a provare A vincere questa partita Calcio di punizione Pjanic Allarga tutto Per chi Per nessuno È un autopassaggio Di Pjanic Evita la scivolata Palla per Marcolino Alonso 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 Lagga Troppo Cross In mezzo Chi si è infortunato Aghero Perché Non ha toccato palla E si è infortunato Pjanic 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 Zona tiro Pjanic Calcio d'angolo Non si può giocare Ragazzi Palla all'indietro Icardi Si gira Icardi Lagga Troppo Cazzarola Che sta succedendo In questa partita Di Balla Perché col destro A giro Ho sbagliato Occhio ad Amsic Occhio ad Amsic Amsic Sul primo palo Begovic Ma che tiro di merda Occhio a Brozovic Brozovic Palla bassa Palla bassa Attenzione Mamma mia Che intervento Ha fatto Nainggolan Fine primo tempo 0-0 Una partita Equilibrata Occhio 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 Mamma mia Begovic Che parata Ok Ok Bella Questa azione Bellissima Icardi Icardi Ancora Icardi Si ferma Icardi Palla Lì per Nainggolan Calcio d'angolo Dai ragazzi Dai dai Non un altro pareggio Non mi va Calcio d'angolo Sul primo palo Dove c'è Mauro Icardi E tua E tua Cazzo succede Basta mettere pausa E mette pausa No 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 Cos'è sto buco Mio Dio Cos'ha sbagliato Vai Vai E perché mi ritrovo piani Perché Bellissimo Bellissimo Sì Mamma mia Che ho fatto con piani Passiamo in vantaggio All'ottantaseiesimo Forse questa Me la meritavo Meno di quella di prima Occhio al Sharawi Occhio al Sharawi Palla in avanti Perché Perché No 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 Begovic Maronna mia Via sta palla Finisce qui ragazzi Vinciamo la seconda partita Devo dirla Il mio avversario Meritava di vincere Come meritavo Di vincere io Quella scorsa Però Siamo a 10 punti Ragazzi 3 vittori E un pareggio Non male Come cammino Per il momento Ragazzi Superiamo I 2000 mi piace Per il prossimo episodio Rotto di Vision One E fatemi sapere Come migliorereste Questa incredibile Ibrida Serie A Premier League Lasciate un mi piace Commentate Condividete Tutti i social In descrizione ragazzi Il canale di Brainless Sempre sotto in descrizione Video finito Danziante tutto Ciao Valeo Ciao Ciao